Adesso andiamo alle labbide che ci fanno in un sacco perché là ci sono le fontane e l'acqua. Andiamo, dai! Questa è già strana, l'abbiamo fatta tante volte e siamo sempre a Ribbo. Dove stiamo? A Ribbo. Va bene. Allora ci vediamo sopra i comuni. Sì, ciao! Sì, ma è che c'è altro? Anche. Sì, siamo ancora, noi siamo con la risposta, avete un topo e non ci mangiare perché ci mangiare tutto. Sì, hanno un grande! Allora! Sì! Allora! Sì! Allora ci vediamo! su quest'altro Michele, su quattro, vai vai ha finito, ma voi è la busta, no, guarda che lì ti fatti tutta, vai vedere il giacchetto Dove siamo? Adesso siamo in Deirazzo, siamo appena saliti? Siamo arrivando nell'acqua che ci stuperemo, dopo che qua l'acqua ci stuperemo Siamo partiti eh? Abbiamo lasciato la nostra corda oferve Ah 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 eccola eccola guarda che facciamo com'è Michela? bello bello adesso c'è la foto qua che bello che bello oggi non mi sarà l'altro bello non mi sarà l'altro bello non mi sarà l'altro bello come è stato? un'avventura che cosa dici ai tuoi amici di youtube? possono venire? si si e mettete un bel like e iscrivetevi al canale non mi sarà l'altro bello al prossimo gioco ma ti sei bagnata? sì ma non tanto vabbè ciao